In questa lezione continuiamo con la classificazione delle funzioni. Prima di procedere, è bene ricordare alcuni simboli della teoria degli insiemi che risultano particolarmente utili in questo contesto. Il primo simbolo è il seguente, una sorta di arrovesciata, che va letto come per ogni o anche qualsiasi. Poi c'è un altro simbolo, il simbolo di appartenenza, che è una sorta di E, e questo vuol dire appartiene a. Tipicamente viene utilizzato per indicare l'appartenenza di un elemento ad un determinato insieme. Alcuni esempi ora li vedremo di uso di questi simboli. Se noi leggiamo un'espressione del tipo per ogni x appartenente ad r, questa è una scrittura simbolica per indicare che stiamo considerando un qualunque numero appartenente all'insieme dei numeri reali. Quindi per ogni x appartenente ad r, o anche per ogni n appartenente ad n. questo è un modo per indicare che stiamo considerando un qualunque numero naturale, cioè un qualunque numero appartenente all'insieme n dei numeri naturali, i numeri utilizzati per contare. Un altro simbolo che è utile ricordare è il simbolo di esistenza. è indicato con una E maiuscola rovesciata. Quindi questo simbolo viene letto come esiste. dire che esiste n appartenente a n, n divisibile per 2, è un'espressione che simbolicamente può essere indicata in questo modo e serve ad esprimere il fatto che tra l'insieme dei numeri naturali è possibile trovarne di divisibili per 2. Si tratta di tutti i numeri pari. Quindi sono alcuni simboli tipicamente utilizzati nella teoria degli insiemi che, avendo a che fare con le funzioni, risultano particolarmente utili perché anche in questo caso dovremo esprimere le proprietà delle funzioni lavorando sugli insiemi su cui queste funzioni sono definite. Quindi il simbolo a rovesciata che si legge per ogni, il simbolo di appartenenza e il simbolo di esistenza. Passiamo quindi a definire le funzioni iniettive. E' iniettiva una funzione che gode della seguente proprietà. Quindi abbiamo una funzione f definita sull'insieme a a valori nell'insieme b. Per ora diamo la definizione facendo uso dei diagrammi di Venn, poi vediamo come esprimerla in modo simbolico facendo uso dei simboli precedentemente ricordati. Quindi indichiamo con un diagramma l'insieme a, con un altro diagramma l'insieme b e con la freccia al solito indichiamo la corrispondenza tra un elemento x dell'insieme a e il suo corrispondente e la sua immagine nell'insieme b che indichiamo con la y. Bene, la funzione è iniettiva quando prendendo due elementi x1 e x2 distinti nell'insieme a, le loro immagini y con 1 ed y con 2 sono anch'esse distinte. E' questo qualunque sia la coppia di valori x1 e x2 che prendiamo nell'insieme a, purché x1 sia diverso da x2. Scriviamo questa proprietà in modo simbolico, dopodiché facciamo un controesempio di rappresentazione grafica di una funzione non iniettiva per capire la differenza. Quindi in modo simbolico risulta iniettiva una funzione per la quale per ogni x1 x2 appartenenti ad a, insieme dominio, con x1 diverso da x2 risulta f di x1 diverso da f di x2 o anche y con 1 diverso da y con 2. E' importante il simbolo per ogni in questa espressione simbolica perché la coppia di valori di x1 e x2 non deve essere una specifica coppia, per esempio nel caso di numeri 2 e 5, deve essere una coppia che possa essere scelta in modo assolutamente arbitrario, ogni qualvolta si prendono due elementi del dominio, diversi tra di loro, le corrispondenti immagini nell'insieme codominio e nell'insieme b, sono diverse fra di loro anch'esse. Non deve succedere una cosa di questo tipo. Ora faccio un esempio di diagramma di Venn di una funzione che non risulta iniettiva. quindi abbiamo un'altra funzione G, definita in A a valori in B, tracciamo l'insieme A, tracciamo l'insieme B. Supponiamo che succeda una cosa di questo tipo. x1 e x2 sono due elementi del dominio. Le loro immagini, tramite la funzione G, sono però coincidenti. Quindi c'è un unico y che risulta immagine sia di x1 che di x2 tramite alla funzione G. Quindi abbiamo x1 diverso da x2 e contemporaneamente g di x1 uguale g di x2. Se succede una cosa di questo genere, la funzione G non risulta iniettiva. Quindi, per riassumere, una funzione è iniettiva se a elementi distinti del dominio corrispondono immagini anch'esse distinte. Facciamo qualche esempio di funzioni reali di variabile reale, sia iniettive che non iniettive. Consideriamo la funzione di equazione f di x uguale 2x meno 1. Si tratta di una funzione che ha per dominio tutto l'insieme dei numeri reali. Intanto facciamo qualche prova numerica, giusto per renderci conto. Prendiamo, per esempio, i valori x1 uguale 0 e x2 uguale 5. Giusto per renderci conto. Andiamo a calcolare f di 0. f di 0 viene calcolato sostituendo al posto della x il valore 0 ed eseguendo i calcoli contenuti nell'equazione che definisce la funzione. Abbiamo quindi 2 per 0 meno 1 che fa meno 1 e poi abbiamo f di 5 uguale, in modo analogo, 2 per 5 meno 1. 2 per 5 fa 10. 10 meno 1, 9. Come vediamo, prendendo due valori distinti della x, si ottengono due valori distinti per le immagini di 0 e di 5 rispettivamente. Ovviamente prendere due soli valori non dimostra assolutamente nulla, perché basta che ci sia una sola coppia di valori del dominio che danno luogo ad una identica immagine perché la funzione non risulti iniettiva. Noi dobbiamo dimostrare che per ogni coppia di valori x1 e x2 diversi tra di loro risultano diverse anche le immagini. Per dimostrare che le cose stanno così, dobbiamo eseguire un metodo simbolico, un metodo algebrico. Supponiamo quindi che sia x1 diverso da x2. Moltiplicando primo e secondo membro per 2 otteniamo 2x1 diverso da 2x2. Adesso sottraiamo il numero 1 al primo e al secondo membro di questa disuguaglianza. si ottiene 2x1 meno 1 diverso da 2x2 meno 1. Passando dalla prima disuguaglianza alle disuguaglianze equivalenti così ottenute, in particolare concentrandoci sull'ultima, possiamo subito osservare che al primo membro è presente il valore della funzione calcolato in corrispondenza di x uguale a x1 e al secondo membro abbiamo la funzione calcolata per x2. Di conseguenza dall'ultima disuguaglianza segue che f di x1 è diverso da f di x2. Per cui siamo sicuri a questo punto che qualunque cosa noi andiamo a sostituire al posto di x1 e di x2, purché siano diversi tra di loro, i corrispondenti valori della funzione, cioè le immagini di x1 x2 saranno diversi tra loro. Quindi la funzione reale di variabile reale che ha equazione f di x uguale 2x meno 1 è una funzione iniettiva. A numeri diversi presi nel dominio corrispondono immagini diverse nel codominio. Prendiamo adesso la funzione così definita, la funzione di equazione g di x uguale 4 meno x al quadrato. Possiamo verificare se è iniettiva o no, cercando di eseguire una dimostrazione analoga a quella che abbiamo seguito poco fa per la funzione f di x. Oppure possiamo anche verificare se è iniettiva o no facendo qualche prova. Supponiamo di prendere, ad esempio, i numeri x1 uguale 2 e il numero x2 uguale meno 2. Andiamo a verificare cosa succede per le immagini di questi valori di x. g di x1 è uguale a 4 meno x1 al quadrato. Al posto di x1 mettiamo direttamente 2 e abbiamo 4 meno 2 al quadrato è uguale a 4 meno 4 e fa 0. Adesso calcoliamo la funzione g in corrispondenza di x2. 4 meno x2 al quadrato. Questo è uguale a 4 meno meno 2. Stavolta abbiamo sostituito meno 2 al posto della x. Ovviamente il quadrato c'è ancora. Il quadrato annulla il segno meno sono presenti accanto al 2 e quindi ci ritroviamo di nuovo con 4 meno 4 che fa 0. Come vediamo, a valori diversi di x1 e x2 possono corrispondere in questa funzione due valori identici della funzione. È chiaro che gioca un ruolo fondamentale in questo risultato la presenza del quadrato sulla x che fa sì che prendendo due valori di x uguali in valore assoluto ma diversi nel segno si ottengono uguali valori per la funzione. Bene, la funzione g non risulta iniettiva. Visto che, come negli esempi che abbiamo appena esaminato, è necessario poter verificare quando una funzione è iniettiva oppure no, è utile specificare un altro modo di definire una funzione iniettiva. Noi finora abbiamo detto che una funzione f definita in a a valori in b è iniettiva se, prendendo due valori x1 e x2 appartenenti ad a con x1 diverso da x2, risulta sempre f di x1 diverso da f di x2. In modo analogo, questa stessa sequenza logica può essere scritta invertendo il ragionamento, e cioè una funzione risulta iniettiva se, comunque prendendo due valori x1 e x2 appartenenti ad a, si ha che f di x1 è uguale ad f di x2 solo se x1 è uguale ad x2. Cerchiamo di capire meglio perché queste due espressioni simboliche sostanzialmente significano la stessa cosa. Nel primo caso noi partiamo dalla disuguaglianza tra x1 e x2 e diciamo che, se è vera questa disuguaglianza, allora devono essere diverse corrispondentemente anche le immagini di x1 e di x2. Qui invece diciamo che, presi x1 e x2 appartenenti al dominio. L'uguaglianza tra le loro immagini è consentita solo se sono uguali anche x1 e x2, cioè in sostanza se prendiamo x1 e x2 diversi tra di loro, quest'uguaglianza non è ammessa, il che equivale a dire che se x1 e x2 sono diversi tra di loro, corrispondentemente anche f di x1 deve essere diverso da f di x2. Questi due modi di definire una funzione iniettiva possono risultare utili caso per caso per effettuare la verifica dell'iniettività di una funzione. In molti casi, per esempio, questo secondo modo di esprimere l'iniettività risulta più efficace per fare una verifica e vediamo un esempio di questo tipo. Prendiamo la funzione di equazione f di x uguale x alla terza più 4. Essendo una funzione polinomiale, una funzione razionale intera, ha per dominio naturale l'insieme di tutti i numeri reali come negli esempi precedenti. Verifichiamo se questa funzione è o no iniettiva e ci atteniamo al secondo modo di effettuare la verifica, cioè quello di andare a verificare se l'uguaglianza tra due valori della funzione è ammessa solo quando sono uguali anche ai corrispondenti valori di x. Allora, f di x1 uguale f di x2 si traduce in, prendendo l'espressione analitica della funzione, x1 alla terza più 4 uguale a x2 alla terza più 4. Ho sostituito al posto della generica espressione f di x, la sua espressione analitica. Possiamo applicare i principi di equivalenza delle equazioni, quindi 4 e 4 si può semplificare. Ci ritroviamo con x1 alla terza uguale x2 alla terza. Ora, l'esponente 3 è un esponente dispari, di conseguenza non è in grado di modificare il segno del numero sostituito al posto di x, cioè se x1 risulta positivo, anche x1 alla terza è positivo. Se x1 dovesse essere negativo, anche x1 alla terza risulterebbe negativo. Di conseguenza, si può estrarre al primo e al secondo membro la radice cubica senza preoccuparci del segno. Effettuando questa radice si ottiene radice cubica uguale radice cubica, l'indice della radice e l'esponente si semplificano e quindi otteniamo x1 uguale x2. Questo significa che l'uguaglianza dei valori della funzione è consentita solo se sono uguali i valori della variabile x, della variabile indipendente. E questo significa che la funzione di equazione f di x uguale x alla terza più 4 è una funzione iniettiva. proviamo a lavorare con lo stesso ragionamento per verificare l'eventuale iniettività della funzione g di x uguale x alla quarta più 3. Anche questa è una funzione razionale intera, quindi ha per dominio l'insieme di tutti i numeri reali. verifichiamo quando risulta g di x1 uguale g di x2. Perché la funzione sia iniettiva, questa uguaglianza deve portare come conseguenza x1 uguale x2. Vediamo se è vero. Mettiamo un punto interrogativo perché ancora dobbiamo fare la verifica. g di x1 uguale g di x2 si traduce in x1 alla quarta più 3 uguale x2 alla quarta più 3. Possiamo semplificare 3 e 3. Rimane x1 alla quarta uguale x2 alla quarta. Ora, per poter arrivare ad una eventuale uguaglianza tra x1 e x2 dovremmo estrarre la radice quarta. Il punto è che l'esponente 4 è in grado di modificare il segno della base, cioè se al posto di x1 mettiamo un numero negativo, l'esponente pari determina un risultato positivo. Quindi l'uguaglianza di x1 alla quarta e di x2 alla quarta non richiede necessariamente che x1 e x2 siano uguali, ma solo che siano uguali i loro valori assoluti. Questa uguaglianza si traduce in valore assoluto di x1 uguale valore assoluto di x2. Questo ci porta a dire che ci sono due possibilità perché si abbia il valore assoluto di x1 uguale al valore assoluto di x2. Possiamo avere x1 uguale x2 ma anche x1 uguale a meno x2. Quindi ci sono due soluzioni possibili che portano all'uguaglianza dei valori della funzione. Possiamo avere x1 uguale x2 e x1 uguale all'opposto di x2, il che significa che la funzione non è iniettiva, in quanto in questo secondo caso, che è ammesso, due valori diversi della variabile indipendente portano ad uguali valori per la funzione. Nello schema dei diagrammi di Venn avremo una situazione di questo tipo. Insieme A, insieme B, che poi in realtà sono lo stesso insieme in questo caso, abbiamo x e meno x che portano ad un unico valore di y. Questo è g di x uguale g di meno x. Quindi questa funzione non è iniettiva. Occupiamoci adesso di un'altra proprietà delle funzioni. parliamo di funzioni suriettive. Allora, consideriamo una funzione F definita in A a valori in B. diciamo che essa è suriettiva se ogni elemento dell'insieme B proviene da un qualche elemento dell'insieme A attraverso la funzione F. Detto in modo diverso, ogni elemento dell'insieme B ha una controimmagine nell'insieme A. Cosa vuol dire? Vediamolo di nuovo con i diagrammi di Venn. Insieme A e insieme B. Quindi noi diciamo che la funzione è suriettiva se scelto un qualunque elemento y appartenente a B, esiste un elemento x appartenente ad A per il quale l'immagine di x tramite la funzione F risulta proprio l'elemento y. Quindi è un po' un percorrere la corrispondenza definita dalla funzione F in senso inverso. Noi partiamo da un elemento di B e cerchiamo il suo corrispondente nell'insieme A. Nel definire durante la prima lezione su questo argomento le funzioni, abbiamo detto che una funzione normalmente è una corrispondenza univoca, cioè si assicura che ad ogni elemento del dominio, dell'insieme A, si fa corrispondere uno ed un solo elemento nell'insieme B. Ma il codominio della funzione solitamente è un sottoinsieme dell'insieme B. Codominio. Quindi significa che se usciamo dal codominio rimanendo sempre nell'insieme B, non è affatto detto che l'elemento dell'insieme B abbia una sua provenienza dall'insieme A attraverso la funzione F, non è detto che si trovi in A una controimmagine. Ricordiamoci che se F di x è l'immagine di x, x si chiama anche controimmagine di y uguale a F di x. Quindi se y è immagine di x, x è controimmagine di y. E allora la funzione risulta suriettiva se l'insieme B e il codominio coincidono. Perché dire che preso un qualunque elemento di B troviamo una controimmagine nell'insieme A significa di fatto dire che tutti gli elementi di B appartengono al codominio. Quindi la funzione suriettiva se il codominio della funzione, che normalmente è un sottoinsieme dell'insieme B, in realtà risulta esattamente coincidente con l'insieme B. Quindi se vale questa, la funzione è suriettiva. Vediamo qualche esempio numerico di funzioni suriettive e funzioni che non lo sono. Consideriamo la funzione F di x, lo facciamo in bianco che poi il verde ci serve per altro, F di x uguale 4 più 3x. Questa è una funzione che può essere vista in questo modo, definita nell'insieme dei numeri reali, a valori nell'insieme dei numeri reali. In questo caso, la funzione risulta suriettiva se il codominio della funzione coincide con l'insieme dei numeri reali, che in questo caso fa anche da insieme B. Allora, per dimostrare questo, per verificare questo, dobbiamo dimostrare che per ogni y appartenente all'insieme dei numeri reali, esiste x appartenente sempre all'insieme dei numeri reali, tale che F di x risulta uguale ad y. Spieghiamo meglio cosa vuol dire questa sequenza logica. Vedete il simbolo di esistenza, che qui risulta indispensabile. Noi abbiamo detto che la funzione suriettiva, se preso un qualunque elemento del secondo insieme, questo elemento ha una controimmagine nel primo insieme. Ricordiamoci che qui R sta facendo sia da insieme A che da insieme B. E analogamente, qui R fa da insieme B, mentre qui fa le vesci dell'insieme A. Quindi questa sequenza logica significa che, preso un elemento dell'insieme B, cioè l'insieme R, troviamo, esiste, significa troviamo certamente un elemento dell'insieme A che poi ha sempre R, in modo tale che la funzione calcolata in x dia come valore y. Significa che, preso un elemento di B, esiste una sua controimmagine nell'insieme A. E questo deve succedere qualunque sia la scelta che si fa dell'elemento y appartenente all'insieme B. Quindi questo significa che il codominio della funzione dovrebbe coincidere con l'insieme R. Ma questo va verificato. Non sappiamo se questa situazione è effettivamente vera o no. Per verificarlo possiamo fare in questo modo. Al posto di f di x scriviamo direttamente y e riscriviamo l'espressione analitica della funzione 4 più 3x. Noi vogliamo vedere se, preso un y qualsiasi, esiste una controimmagine. Questa controimmagine va a cercare se la troviamo vuol dire che y appartiene al codominio. Se non la troviamo, y non appartiene al codominio. Per cercare questa controimmagine, visto che la legge che permette di legare ad x il valore di y è di natura analitica, matematica, algebrica, possiamo certamente cercare di invertire questa formula al fine di trovare per quale x si ottiene questo valore di y. Quindi praticamente utilizziamo questa come se fosse un'equazione nella variabile x avente per parametro y. Al variare di y troviamo la soluzione in x per questa equazione. Procediamo quindi. Per risolvere un'equazione come questa, che risulta essere un'equazione di primo grado nella variabile x, dobbiamo portare il termine con la variabile al primo membro e tutto il resto al secondo membro. Quindi 3x va al primo membro e cambia disegno e abbiamo meno 3x uguale. 4 lo lasciamo, y passa al secondo membro e cambia disegno e abbiamo 4 meno y. Come successivo passaggio cambiamo disegno e abbiamo 3x uguale meno 4 più y. Infine dividiamo per il coefficiente della x e abbiamo x uguale meno 4 più y diviso 3. Questa è un'espressione che può essere calcolata per qualsiasi valore di y reale si possa scegliere. Il che significa che comunque noi scegliamo y appartenente all'insieme dei numeri reali è sempre possibile trovare un x che gli fa da controimmagine. Se noi prendiamo questo valore di x e lo inseriamo al posto di x nell'espressione analitica della funzione troviamo proprio il valore di y da noi scelto. Possiamo fare una verifica di esempio. Prendiamo ad esempio y uguale meno 1. Vogliamo vedere se esiste un x tale che f di x è uguale proprio a meno 1. Beh, basta prendere meno 1 e sostituirlo in questa espressione e otteniamo x uguale meno 4 meno 1 diviso 3. Il risultato è meno 5 terzi. Quindi meno 5 terzi risulta la controimmagine di x, di y uguale meno 1. O anche meno 1 deve essere l'immagine di meno 5 terzi attraverso la funzione. Vediamo se è vero. Sostituendo adesso meno 5 terzi al posto di x nell'espressione analitica della funzione dovremmo ritrovare meno 1 come risultato. E in effetti f di meno 5 terzi è uguale a 4 più 3 per meno 5 terzi. Ho fatto la sostituzione che dicevamo. Il risultato è 4 meno, il 3 a moltiplicare e il 3 a dividere si semplificano, e abbiamo 4 meno 5, cioè esattamente meno 1. Quindi meno 1 è effettivamente l'immagine di meno 5 terzi. Quindi abbiamo dimostrato che la funzione f di x uguale 4 più 3x è una funzione suriettiva nell'insieme dei numeri reali. Vediamo un esempio di funzione non suriettiva. Consideriamo la funzione di equazione g di x uguale 3x al quadrato più 8. Funzione razionale intera. Il dominio coincide con l'insieme dei numeri reali. Vediamo se è una funzione suriettiva oppure no nell'insieme R. Quindi considerate questa funzione come definita in R a valori in R, per verificare se è suriettiva dobbiamo vedere se il codominio della funzione coincide con l'insieme R oppure no. Possiamo subito notare una cosa. Qui è presente un numero positivo che viene sommato ad un'espressione che contiene la x ma con il quadrato. Per cui qualunque valore positivo o negativo venga sostituito al posto della x in questa espressione analitica, il risultato di tutta l'espressione è certamente positivo. 3x al quadrato più 8 è maggiore di 0 qualunque sia x reale, il che significa che la funzione non assume mai valori negativi. Allora ogni numero negativo non ha una controimmagine relativamente a questa funzione. Se prendessimo y uguale meno 10, per esempio, non avremmo alcun valore di x tale che g di x sia uguale a meno 10. Il che significa che il numero meno 10, come qualunque altro numero negativo, non ha alcuna controimmagine nell'insieme di partenza. L'insieme di partenza è R, l'insieme di arrivo è R, però il codominio della funzione è un sottoinsieme stretto dell'insieme dei numeri reali che contiene solo numeri positivi. Quindi questa non è verificata e la funzione cdx non è suriettiva. C'è da dire una cosa però sulle funzioni suriettive. In fondo, la funzione suriettiva abbiamo detto quando, definita sull'insieme A a valori in B, il codominio risulta essere coincidente con l'insieme B. Ora, quando una funzione non è suriettiva, è comunque molto facile renderla tale attraverso una stratagemma. Ad esempio, questa funzione, sappiamo, certamente non assume mai valori negativi. Inoltre, visto che anche 3x al quadrato è sempre positivo, tutti i valori della funzione sono certamente maggiori o uguali a 8. Quindi il codominio della funzione è costituito dall'insieme dei numeri y reali che però siano maggiori uguali uguali a 8. Quando una funzione come questa non risulta suriettiva, in fondo è abbastanza semplice renderla tale con un piccolo stratagemma. Anziché definire la funzione dall'insieme A all'insieme B, visto che il codominio risulta un sottoinsieme stretto dell'insieme B, si può fare in questo modo. Si definisce una nuova funzione, chiamiamola g' che sia definita nell'insieme A ma che abbia valore nell'insieme C stesso. Cioè, il secondo insieme lo prendiamo esattamente coincidente con il codominio e la funzione è definita in modo tale che g' di x sia uguale a g di x per qualsiasi valore di x appartenente al dominio. Quindi praticamente ridefiniamo la stessa funzione, solo che il secondo insieme viene sostituito direttamente con il codominio. In questo modo, il codominio di questa nuova funzione coincide esattamente con il secondo insieme e la funzione risulta automaticamente suriettiva. Facciamo un esempio. Nel nostro caso, la funzione di equazione 3x al quadrato più 8 non è suriettiva sull'insieme R, ma se al posto dell'insieme R mettiamo l'intervallo C coincidente con l'insieme dei numeri reali maggiori o uguali ad 8, la funzione definita su questo insieme risulta suriettiva in quanto ogni valore dell'insieme C ha una controimmagine in R. Non è possibile invece rendere iniettiva una funzione che non lo è, a meno di non restringere il dominio della funzione. A questo punto diamo la definizione di funzioni biettive. Abbiamo visto, infatti, cos'è una funzione iniettiva e cos'è una funzione suriettiva. Si dice biettiva una funzione che sia contemporaneamente iniettiva e suriettiva. Quindi, esaminate e definite le proprietà di iniettività e suriettività. Se una funzione gode di entrambe le proprietà, viene detta biettiva. Allora, volendo riassumere, quando è che è una funzione biettiva? Quando? Primo. Per ogni x1 e x2 appartenenti al primo insieme con x1 diverso da x2 sia f di x1 diverso da f di x2. Cioè, presi due elementi del dominio diversi tra di loro, anche le rispettive immagini sono tra di loro differenti. E questo definisce la funzione iniettiva. Inoltre, la funzione risulta suriettiva, ovvero, per ogni y appartenenti al secondo insieme, esiste un x appartenente al primo insieme, tale che f di x risulta uguale ad y, che è come dire che, dato un elemento dell'insieme b, il secondo insieme, esiste sempre una sua controimmagine nell'insieme a, e quindi l'insieme b coincide con il codominio. Se sono verificate entrambe queste proprietà, la funzione risulta biettiva. Di fatto, una funzione biettiva stabilisce una corrispondenza bionivoca tra l'insieme a e l'insieme b. Infatti, in base a questa definizione, noi abbiamo che ad ogni elemento del dominio x corrisponde corrisponde uno ed un solo elemento nell'insieme b. E inoltre, preso un elemento y' nell'insieme b, esiste certamente il suo corrispondente x' nell'insieme a. Inoltre, non sono mai coincidenti due elementi di b se non lo sono gli elementi corrispondenti nell'insieme a. Quindi, ad ogni elemento di a viene fatto corrispondere uno ed uno solo elemento di b, e viceversa, ad ogni elemento di b viene fatto corrispondere uno ed un solo elemento di a. Questo definisce una corrispondenza bionivoca tra i due insiemi. Una corrispondenza bionivoca come questa viene anche chiamata biezione. Quindi, funzione biettiva, corrispondenza bionivoca o biezione. Questo tipo di funzioni sono particolarmente importanti perché possono essere invertite. Nella prossima lezione parleremo infatti di funzioni invertibili e delle corrispondenti funzioni inverse. Volendo un attimo riassumere i concetti che abbiamo introdotto in questa lezione, abbiamo introdotto le definizioni di funzione iniettiva, funzione per la quale non esistono due immagini uguali di due elementi diversi, funzione suriettiva, funzione per la quale il codominio coincide col secondo insieme su cui la funzione è definita, e funzione biettiva se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva.